Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per veicolo fermo o in avaria tra Sassomarconi e B1 variante in direzione sud. In A12 per lavori 2 km di code a tratti verso Livorno tra Carrara e Massa. In Fipili restano code a tratti per viabilità esterna che non riceve verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze e Scandici. Un sguardo traffico ferroviario per una riprogrammazione dell'offerta commerciale il treno 19155 Pisa-Aulla è cancellato da Piazza Al Serchio ad Aulla e sostituito con bus con le stesse fermate. Il treno 19197 Aulla-Lucca è cancellato da Aulla a Piazza Al Serchio. Prima di salutarci per il traffico aereo il volo Firenze-Parigi delle 11.45 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 14.50. Sono inoltre cancellati i voli diretti a Monaco delle 13.05 e a Parigi delle 13.25. Buonasera, Sintoscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!